La morte di Padre Pio Io ho scelto proprio i giorni giusti. Oggi è il giorno 19. Come 19 era il giorno in cui mi sono incontrato con il Padre Pio ed è nata in me quella gioia suavissima, intensissima e profondissima. Volevo dare testimonianza. C'è stato un cambio, ma è stato providenziale. Avrei dovuto dire la messa e il santuario delle grazie. Uno mi ha detto possiamo fare il cambio. E mi sono preparato per dare testimonianza. Siamo partiti con la rassicurazione di Gesù. Non abbiate paura. Non dobbiamo avere paura. Essere testardi e pregarlo affinché lui si stanchi e ci esaudica. Che poi si serva di uno, si serva dell'altro, si serva di un santo, si serva di situazioni un po' speciali per noi. Questo è ininfluente. L'importante è che sia Dio a trasmettere la sua grazia. Sia ringraziato Dio.